Nasce il network informativo per disabili. Ieri a Verbagna la presentazione del progetto. Si tratta di una rete di sportelli nati dalla collaborazione tra Regione Piemonte, Agenzia delle Entrate, IMSS, INAIL, Agenzia Piemonte Lavoro, ASL, Tribunale, CIS, Comune di Verbagna, Ufficio Scolastico Regionale e Difensore Civico. Il progetto sarà sperimentato per la prima volta nel VCO. L'Istituto già è operativo con una rete di funzionari esperti nelle materie e nelle prestazioni per i soggetti disabili e ovviamente questo network consentirà al cittadino di orientarsi nella vastità delle prestazioni che lo riguardano e dei benefici. In particolare ai nostri sportelli l'utente riceverà l'informazione per potersi rivolgere ai soggetti a vario titolo interessati e alle altre amministrazioni con un'informazione più corretta e puntuale in modo da non dover girare a vuoto i vari uffici per avere l'informazione che gli occorre. A livello locale, ruolo centrale spetta all'URP regionale con il supporto degli enti territoriali. Hanno partecipato tutti gli enti della nostra provincia che lavorano a vario titolo sulla disabilità, il Tribunale, i consorzi dei servizi sociali. Scopo del protocollo presentato ieri, far sì che i soggetti coinvolti contribuiscano ad agevolare la veicolazione delle informazioni ai cittadini che vivono situazioni di disabilità.